Visita quasi sorpresa del Premier Matteo Renzi ad Asti. Questa mattina, martedì 8 novembre, il Presidente del Consiglio in un municipio gremito ha incontrato i sindaci del territorio. Chi si aspettava di sentire nominare la parola referendum è rimasto deluso. Renzi infatti si è concentrato principalmente sulle cose da fare nelle piccole realtà e nei piccoli comuni, sottolineando ancora il legame fra il suo ruolo politico attuale e quello passato, da primo cittadino di Firenze. Tornate a investire sulle scuole è il monito più importante lanciato dal Premier ai sindaci, che sono stati invitati a ristrutturare gli edifici scolastici, rendendoli non solo sicuri, ma anche belli. Renzi ha poi raccolto l'offerta del sindaco Brignolo di avere Asti come comune pilota per sperimentare una presenza più massiccia di telecamere di sorveglianza, nel rispetto della privacy, sottolineando però la necessità di avere più forze di pulizia sulle strade e nei paesi, non una militarizzazione del territorio, ma una vera presenza capillare, quotidiana e continua. L'incontro si è chiuso con un affondo del Premier, bisogna valorizzare il vino e la produzione agroalimentare italiana, come possibilità di rilancio per l'economia, ma anche per l'immagine di tutto il paese. Grazie a tutti.